Amici carissimi, bentrovati in Piazza del Popolo, ormai siamo vicinissimi all'appuntamento elettorale del 21 novembre, il giorno in cui al ballottaggio andranno Gianni Rotice e Gaetano Principe, i due candidati sindaci di Manfredonia e per parlare di quello che potrebbe avvenire anche a seguito dei risultati che sono scaturiti dalla consultazione del 7 novembre abbiamo invitato Nico Muscatiello, il dottor Nico Muscatiello che tra l'altro oltre che essere è un validissimo e bravissimo professionista e anche un opinionista politico per cui con lui ci divertiamo a chiacchierare della politica manfredoniana, intanto bentrovato Nico. Grazie Vincenzo, grazie dell'invito, opinionista politico mi fa un po' ridere, appassionato di politica sicuramente sì. Adesso vanno molto di mood le opinioni, a questo punto possiamo… Influencer! Anche, dicevo con Nico Muscatiello possiamo parlare di queste elezioni amministrative affinché la città al più presto possa esprimere davvero un sindaco che è espressione della volontà popolare. Il 7 novembre si è votato, le due candidature che hanno ottenuto più suffragi sono state rispettivamente quella di Gaetano Principe e quella di Gianni Rotice, ci sono state delle buone affermazioni anche per Raffaele Fatone, per Giulia Fresca, per la stessa Maria Teresa Valente e per Tommaso Rinaldi. Diciamolo chiaramente, comunque i risultati che hanno ottenuto, tenendo conto anche del fatto che erano tanti i candidati sindaci, ben sei, sono senz'altro positivi. Sì, i risultati sono stati positivi. La cosa che mi ha meravigliato di queste elezioni è stata che comunque, pur avendo tanti candidati sindaci, ognuno per proprio verso stimato, stimabile, ma l'affluenza quest'anno è stata inferiore a quella delle altre volte. Quindi erano delle elezioni importanti per la città di Manfredonia, erano delle elezioni significative. Si passava dopo un commissoriamento, dopo una chiusura per mafia di un comune. Era importante mandare un segnale di partecipazione alla vita pubblica della nostra città. Purtroppo siamo rimasti un po' delusi. Io speravo che almeno il 70-75% delle persone andasse a votare. Non so se è un effetto Draghi, come si suole dire, questa disaffezione alla politica, ma questo può essere vero per le elezioni politiche, forse regionali, ma non certo per le comunali dove c'erano più di 400 candidati alle elezioni comunali di Manfredonia. Quindi voglio dire, c'erano una miliardia di persone candidate. Certo è che se poi noi andiamo a analizzare le liste dei candidati, c'erano delle liste sicuramente fatte male. Perché se dobbiamo andare a fare l'unplan delle liste dove vediamo diversi candidati con zero voti, ci mettiamo a ridere, vuol dire che quelle liste non sono state brillate. Adesso non voglio fare l'elenco delle liste, il vertice di quelle con zero voti, però certo è fare delle liste con zero voti dove ci sono più persone con zero voti, vuol dire che quella lista non è stata fatta bene e ci sono stati dei problemi. Per cui era meglio fare meno liste e farle meglio, farle con persone che ci tenevano. Perché vuol dire che neanche te stesso hai votato. Questo vuol dire che c'è stata anche molta, non solo improvvisazione, ma tra l'altro molta presunzione da parte di chi ha stesso le liste. Vuol dire che chi ha fatto determinate liste le ha sbagliate proprio. Non so se sono esperti di politica o se dicenti tali o se credono tali, però certo è che una lista che ha due, tre persone, quattro persone con zero voti o con un voto è una lista in cui chi l'ha fatta si dovrebbe soltanto ritirare dall'attività politica, perché vuol dire che non le sa fare. Punto e basta. Non so se cosa pensi tu, Vincenzi. No, 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 la penso alla stessa maniera, anche se possiamo aggiungere che senz'altro come attenuante ci possono essere state varie circostanze che hanno portato a ottenere. Non so se non si va a farla, però può capitarti con uno, due, ma tre, quattro, cinque persone con zero voti o un voto, vuol dire che tu proprio di politica non ne capisci niente. Mi permetto di dirla così. Sì, ma si sono verificati anche casi di candidati che avevano firmato per una lista e poi successivamente avevano firmato per una seconda lista, a caso mai in uno schieramento addirittura opposto. Ma questo sta a dimostrare che il candidato... Non c'è stata molta serietà neanche dagli stessi candidati. Questo sta a dimostrare che il candidato non è stato serio, nell'altro caso sta a dimostrare che chi ha fatto la lista non è stato capace. Probabilmente così. Punto, basta. Bene, andiamo ad analizzare un attimo le situazioni. I due candidati sindaci, quelli che hanno ottenuto più voti, Ghetano Principe e Gianni Notici, ti aspettavi questi risultati da entrambi? Allora, prima di parlare di questi entrambi, io devo dire che mi ha sorpreso favorevolmente i risultati ottenuti da Fatone, dalla Fresca, ma soprattutto il risultato ottenuto da Rinaldi. Io tra tutti quanti farei complimenti a Rinaldi. Lo conosco poco, Fatone li conosco, alla Fresca non ho il piacere di conoscerla, ma io farei una sting ovation verso Rinaldi perché credo che sia la persona che si è comportata con eleganza, con discrezione, eccetera. Quindi certamente non avrebbe avuto un futuro possibile di arrivare al ballottaggio, però lui si è comportato elegantemente e bisogna darne atto. Gli altri ci sono stati bravi tutti quanti, certamente chi aveva degli apparati dietro di sei importanti è arrivato al ballottaggio. Beh, apparati importanti ce li avevano tutti, mascherati o non mascherati. Diciamo così, non c'era il simbolo del PD, però sono intervenuti tutti i grandi del PD a sponsorizzare Gaetano. Persona degnissima, non c'è... Ma sicuramente. Persona degnissima. Ma tutti i grandi del PD sono venuti a sponsorizzare Gaetano, l'assessore al bilancio Raffaele Piemontese, PD è venuto a sponsorizzare Gaetano, De Caro è venuto a sponsorizzare... È arrivato il ministro. È arrivato il ministro. Allora, stiamo parlando di PD mascherato, ma c'era mascherato, ma PD mascherato in due liste perché c'era anche Molo 21 di cui non dobbiamo nasconderci. Lista civica non credo che sia, però voglio dire comunque alla fine due apparati importanti. Uno vero, che era quello che portava Gaetano a Principe, un altro un po' legato soprattutto alla capacità di Gianni imprenditoriale di riuscire a coinvolgere la gente. Io non credo che Gianni sia un candidato di Forza Italia. Ovviamente stai parlando di Gianni Rotice. Gianni Rotice non è un candidato di Forza Italia. Sicuramente avranno parlato di questi meravigliosi incontri nel Forza Italia. Vabbè, poi fa parte dei discorsi politici all'accetto, quelli che si fanno dicendo, di certo la qualunque, che ne ho sentiti diversi, torneranno i tonni nell'Adriatico, torneranno i delfini. Quelli sono i discorsi di accetto la qualunque che lasciano il tempo che trovano. Certamente Gianni, che era uno alle prime armi con la politica, Gianni Rotice, che era alle prime armi della politica, ha dimostrato di saperci fare e ha dimostrato un crescendo. Più giorni passavano, più si è dimostrato bravo. Poi che lui sia un imprenditore, che sia capace di prendere decisioni, che sia capace di amministrare, non ci sono dubbi. Io lo stimo moltissimo da questo punto di vista. Raccoglie tutta la mia fiducia, totale fiducia. Quindi, voglio dire, non c'è mica necessità di dichiararmi. Lo sanno tutti che io sono molto amico di Gianni e raccoglie la mia fiducia. Quindi io mi dichiaro già da subito che sono un fan di Gianni, uno sponsor di Gianni. Ma perché... Quindi un elettore di Rotice. Sono un elettore di Rotice, ma anche perché io la democrazia la vedo come democrazia dell'alternanza. La vera democrazia è quando non ci sono delle rendite di posizione che durano 25 anni. Secondo me il cambiamento fa solo bene. Il mascheramento fa solo male. Quindi avere la possibilità, per la prima volta, di riuscire a smontare degli apparati, riuscire a creare qualcosa di nuovo, gioventù, quaterosa, donne... Beh, in questo caso... Andiamo a guardare addirittura le otto donne che andrebbero a comprare il Consiglio Comunale che provengono dal centro-destra. Quindi il centro-destra ha espresso qualcosa di sinistra. Guarda, senti, io sono veramente scioccato. Prima di tutto da tutte le diatribe e del pessimo gusto che siamo arrivati all'ultimo minuto a tirare fuori filmati, fotografie... Che poi, voglio dire, io che sono un medico, se mi si mette a me a fare le fotografie credo di aver visitato tutti i genere. Quindi se qualcuno mi vuol tirare fuori una fotografia, la tira fuori come vuole. Ma questo non significa che io sia adeso a determinate logiche. E quindi, secondo me, siamo scesi nel pessimo gusto. Poi il problema è che se tu sei da una parte... Come diceva Indro Montanelli, c'è la lavatrice della sinistra che ti fa diventare lindo e pinto. Se vai dall'altra parte è tutto sovranismo, razzismo, eccetera, eccetera. Queste sono cose che non stanno più né in cielo né in terra. Io, qualche giorno fa, mi è capitato di sentire l'intervista di furore europarlamentare dei Cinque Stelle, in cui parlava degli appalti pubblici in provincia di Foggia. Io sono rimasto scioccato. Non è possibile che un imprenditore in provincia di Foggia vinca un sacco di appalti pubblici e abbia un grado di parentela stretto con un alto esponente di partito. Io sono scioccato. Ma lì non si dice niente. Forse adesso è uscito qualche articolo sul giornale recentemente. Dall'altra parte si parla degli appalti di Gianni. Gianni Ottici è un imprenditore che partecipa agli appalti, che fa le gare di appalto. Io, è noto a tutti, che chi collaborava con Gianni Ottici era l'attuale suo competitor politico. Sì, sì. Il sindaco. Il sindaco. Non è che ci si sa. L'ex sindaco di Manfredonia, Ghetano Prenci, perché tra l'altro è stato anche legale di Gianni. Quindi voglio dire, di che cosa stiamo parlando? Faceva degli appalti, partecipava agli appalti. Non faceva subappalti, chiariamo, non è generalmente delle cose. Partecipava a lui, dava da lavorare alla gente di Manfredonia, perché erano quasi tutti operai di Manfredonia. Quindi tu stai evidenziando il fatto che anche i sostenitori di Ghetano Prenci stanno sbagliando questa campagna di comunicazione. Ma io una campagna di comunicazione fatta in una maniera di demolire l'avversario parlandone male, secondo me è una delle campagne di comunicazione più sbagliate che c'è. Io non so se sono fatto vecchio, vi ricordo che c'era la tribuna politica un tempo. E quando c'erano le elezioni politiche... Vittorio Citteri. C'erano i confronti tra due personaggi politici di opposto pensiero. Beh, una delle tribune politiche più belle che ci sia mai stata, e se qualcuno vuole se la vada a rivedere, è stato un confronto tra Enrico Berlinguer e Giorgio Ammirante a tribuna politica. Nessuno dei due ha alzato la voce, nessuno dei due ha parlato male dell'avversario, nessuno dei due ha denigrato l'avversario. Eppure stiamo parlando di due mondi in quel periodo opposti, ma in cui la signorilità e il rispetto è un esempio per i giovani. Allora, se noi vogliamo parlare di esempi da dare, beh, certo, queste elezioni non sono state un esempio, perché tirare fuori delle fake news e parlare male degli altri, uccidersi pubblicamente dicendo cosa significa seminare odio, seminare astio, seminare rancore. E chi sta nella classe politica deve dare degli insegnamenti positivi a chi segue. Ma aggiungiamo che è stato utilizzato anche come demone la figura di Angelo Riccardi. Noi ci siamo sentiti un po' di tempo fa, no? Sì. Tu sai che io ho parlato bene di Angelo Riccardi, non vedo perché non debba continuare a parlare bene di Angelo Riccardi. Ognuno di noi fa degli errori. Io non credo che ci sia uno che non sbagli. Ognuno di noi può cambiare idea. C'è una frase che si dice brutta, ma si dice solo i morti non cambiano idea. Però Angelo Riccardi non stava lì da solo. Lo dico, lo riaffermo e lo confermo. Angelo Riccardi non poteva fare quello che ha fatto. Non puoi chiedere i voti ad Angelo Riccardi e poi dimenticarti che tu hai diviso una città, diviso, non diviso in dicotomia di taglio. Tu hai condiviso il controllo di una città con Angelo Riccardi. Allora, se Angelo Riccardi era buono all'epoca, è buono anche adesso. E poi io ripeto, Angelo Riccardi per me ha fatto delle cose buone per questa città e non bisogna mai dimenticarsi del buono fatto, come non bisogna dimenticarsi del cattivo. Ma se ci si dimentica del cattivo di Angelo, beh, mi sembra che sia, scusatemi, ho sbagliato, se ci si dimentica del buono di Angelo, e beh, è una cosa non gradevole per quanto mi riguarda, non gradevole, perché scaricare tutto il cattivo su Angelo è una cosa spessima, proprio, di gente non per bene. Gente non per bene. Domenica si va a votare dalle 7 alle 23, affluenza a rischio, ovviamente hai fatto cenno al fatto che al primo turno c'è stata una percentuale bassissima rispetto alle precedenti amministrative che però erano contemporanee alle regionali all'epoca, mentre questa volta erano solo ed esclusivamente per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, percentuali che potrebbero addirittura abbassarsi con il secondo turno. Con il secondo turno una percentuale più bassa potrebbe, potrebbe, usiamo il condizionale, favorire una parte politica rispetto all'altra. Oppure credi che invece la città sia matura da entrambe le parti politiche per poter esprimere una decisione? Io lavoro a Foggia, come tu sai, come sanno in tanti, e quindi ho vissuto anche le elezioni amministrative di Cerignola. A Foggia ci sono tante gente di Cerignola che ci lavora. Al ballottaggio a Cerignola ha votato più del primo turno. Quindi, voglio dire, la certezza di quanta gente ha da votare al secondo turno, non lo so. Io spero che ci vada molta gente a votare, perché non vorrei che succedesse quello che è successo a Roma, che col 30% della popolazione si è scelto il Sindaco. Io spero che vada a votare almeno più del 50%. E tra l'altro è una competizione sentita, perché i due candidati hanno ottenuto un risultato quasi simile. Quasi alla pari. E poi, siccome questa volta chi ha condiviso la scelta di fare il candidato sindaco, come Fatone, come La Fresca, come altri, non si è esposto verso l'uno o l'altro candidato, lasciando liberi i propri elettori, io spero che i propri elettori vadano a votare, secondo scienza e coscienza, per quello che ritengono più idoneo al cambiamento di questa città. Perché questa città sicuramente ha bisogno di un cambiamento e di un cambio di passo. Ha sicuramente bisogno di una mentalità imprenditoriale, ha bisogno sicuramente di forze nuove e di ragazzi che crescano, che si formino, che imparino e che amministrino la città non come se fosse il feudo di una parte politica, ma che si fosse soprattutto una città nata da Re Manfredi, ma che era aperta al futuro, era aperta al mare, era coperta dalla montagna, ma che non ha mai avuto un respiro più ampio di queste quattro mura che stiamo qua. Non abbiamo una mentalità imprenditoriale. Nico, non ci sono stati apparentamenti, però dalla coalizione che sosteneva il candidato sindaco Raffaele Fatone, escluso il Movimento 5 Stelle, le tre liste civiche che componevano quella coalizione hanno in un certo qual modo manifestato, anche pubblicamente, tante che appaiono nei manifesti, la preferenza per Rotice. Potrebbe essere un vantaggio o lo ritieni un qualcosa che possa creare qualche conflitto? Senti, secondo me dichiararsi è sempre una cosa positiva. Non accetto i sotterfugi, gli accordi sottobanco, le sviolinate dette e non dette. Negli Stati Uniti ogni giornale dichiara per quale presidente appoggia. Quindi dichiararsi, noi non siamo nemici, non siamo in guerra, siamo persone che la pensano diversamente o che possiamo avere la capacità di avvicinarci o di allontanarci. Adesso se queste tre liste ritengono che Gianni Rotice sia la persona più idonea a guidare il futuro della città, perché dobbiamo criticarle? Io sono contento che si sono dichiarati. Spero che non ci sia nessuno che stia facendo accordi sottobanco con l'uno o con l'altro, perché questo sarebbe segni di una cattiva e vecchia politica, ma neanche della prima repubblica, forse della seconda repubblica. È ancora peggio questo. Quindi arriviamo alla conclusione. Si vota ormai per questi due candidati. Cosa potrebbe succedere in città se vincesse Principe e dall'altra parte se vincesse Rotice dal tuo punto di vista? Senti, se vince Gaetano Principe, ripeto, persona degnissima, sicuramente ci sarà un continuum rispetto al precedente. È difficile pensare che ci sia un diverso, anche perché abbiamo visto che tutti quelli che sono con Gaetano adesso fanno parte dei vecchi apparati di partito, del vecchio potere di Manfredonia. Ci sono, non ci sono, ma sono là. Non sono nascosti, sono evidenti. Se vince Gaetano questo è quello che io mi aspetto. Potrò sbagliare, ma io mi aspetto questo. Se vince Gianni mi aspetto finalmente una vent'ata di novità, equilibri che non ci sono più, situazioni che cambiano, gente nuova, gente che magari sarà rampante, sbaglierà, ma avrà voglia di fare. Magari di cambiare anche determinati schemi già consolidati, perché questa città ha bisogno di cambiare schemi consolidati. Il popolo delle partite IVA ha fatto una cosa bellissima. Il popolo delle partite IVA ha fatto veramente una cosa stupenda, perché si parla sempre delle luminarie di Salerno. Ebbene, adesso ci sono le luminarie di Manfredonia. Le luminarie di Manfredonia stanno attirando tantissima gente. Ma sai che ci sono scolaresche dei paesi limiti che stanno arrivando a Manfredonia? Allora, ti dico che ci sono gente di Foggia, che io vivo, che però lavora a Foggia, ma non è di Foggia, che si sta organizzando per venire a passare fine settimana a Manfredonia, a cena, a pizza, a vedere se i luminarie, eccetera. Questa è una capacità imprenditoriale non della politica manfredoniana, ma dei manfredoniani, che per quanto siano, diciamo così, disabituati all'imprenditoria, in questo caso il popolo delle partite IVA ha dimostrato che se ci si mette insieme si fanno cose buone. Si rilancia il turismo. Questo è turismo. Questo è turismo. Che dopo un Medioevo legato ai due anni che sono passati, speriamo che ci sia un rinascimento. E il rinascimento, se il rinascimento parte da queste luminarie, è un bellissimo inizio. E io credo, perché siccome conosco Gianni e so che per alcune zone di Siponto, lui ha contribuito a valorizzarle, io so che Gianni su queste cose ci tiene tantissimo. E so che Gianni ama la sua città. E poi adesso non facciamo uscire foto di... Adesso sto sentendo... Io sono, purtroppo, lavorando a Foggia, spesso torno a Manfredonia, tardissimo. Allora, mia compagna, a breve mia moglie, quella che sarà a brevissimo mia moglie, mi dice, mi racconta un po' le cose che sente, che legge sui giornali locali. Dico, ma stanno su... perché non è di Manfredonia, per cui lei sta apprendendo una condizione di Manfredonia Nuova. Dice, Nico, ma stanno succedendo delle cose strane, stanno succedendo cose... mi sono abbracciato... Gianni Rottice c'è un abbraccio con Angelo Riccardi. E poi dopo dieci minuti escono fuori le fotografie di Angelo Riccardi con quelli... ma non serve a nulla. Lei è della BAT. Mi ha portato recentemente a Trani. Certo, noi non abbiamo la bellezza di Trani, non abbiamo il castello, la chiesa di Trani. Però qui non stiamo parlando di castello e chiesa di Trani che non potremmo mai avere, forse è la città più bella della Puglia. Però, voglio dire, lì ci sta un fiorire di localini, non c'è spoglio. La raccolta dei rifiuti avviene anche di pomeriggio, di sera, vengono tolte. Cioè, voglio dire, io voglio questo, io voglio la mia città rifiorire, voglio gli arredi urbani che ci sono, voglio la raccolta differenziata nella città, ci sono delle speranze. E non so, se ti accorgi, non sto parlando per niente di sanità, non ne voglio parlare. Casomai ne parleremo anche perché vogliamo anticipare che probabilmente inizieremo anche una rubrica, se non molto. Ti ho dato la mia disponibilità per questa rubrica che inizieremo a parlare anche di sanità, ma non di sanità, delle pecche della sanità. Inizieremo a parlare di sanità, di cultura sanitaria, nel senso di medicina. Però voglio dire, senza parlare di sanità, io spero che chi venga parli attentamente e guardi attentamente il territorio. Scenda per strada, cammini, si muova, veda i bisogni della gente, veda lo sporco di Manfredonia, veda le strade di Manfredonia, veda i lidi di Manfredonia. Cioè, io vi invito ad andare a i lidi di Margherita di Savoia. Sono molto più belli di Manfredonia. Ma perché? È colpa di Manfredonia? Io non credo sia colpa di Manfredonia. E bisogna dare delle certezze alla gente che lavora e che vuole investire nel turismo manfredoniano. Andiamo un po' ad approfondire invece qualcosa che ti riguarda un po' più da vicino. Abbiamo scoperto che anche tua figlia è scesa in campo, Alessandra, ha ottenuto un buon risultato, tra l'altro è risultata la prima della sua lista, lo vogliamo ricordare, l'unione di centro. Vogliamo esprimere un giudizio su quello che è il risultato di Alessandra, che si è dato molto da fare, perché ho partecipato attivamente alla campagna elettorale di Gianni Rotice. Senti, mi è difficile parlare di Alessandra, però in questo senso, perché non vorrei parlare di Alessandra per il risultato elettorale che ha ottenuto, anche perché lei si aspettava un po' di più, forse anch'io, però questo non significa niente. Il bello di questa tornata elettorale per Alessandra è stata che ha avuto la capacità di distinguersi per eleganza, per comprensione, per linguaggio con minimi accenti dialettali o inflessioni dialettali. È stata capace di parlare davanti al prorettore, al rettore vecchio e nuovo, con un'estrema scioltezza. Ma è stata capace anche di esprimersi alla grande in questo studio. Eh sì, però voglio dire, la cosa che mi ha fatto piacere è che poi tutti quanti mi venivano andando a fare i complimenti, sia da un lato, nel senso sia da una parte che dall'altra, su Alessandra che era stato un fiore all'occhiello di questa campagna elettorale, di questa tornata elettorale. Beh, a me ha fatto piacere moltissimo più questo che no che deve essere la prima della lista dell'Udc. A me fa piacere che Alessandra si è valorizzata come personalità. Si è laureata a pieni voti, ha preso la lode, si è dimostrata essere capace, si è fatta conoscere, ha raccolto le simpatie della gente. Beh, io sono orgoglioso del risultato ottenuto da Alessandra per i suoi voti. Forse non quanto se li aspettavano, ma un vecchio adagio mi diceva che se tu ti aspetti 300, fai il 30% e forse sono i voti che avrai. Ne parlavamo prima con riferimento anche a qualche amico comune. A qualche amico comune. Per cui voglio dire, fanne sempre un 30%. Certo è che questa situazione di vostri disgiunti ha creato qualche imbarazzo, però voglio dire alla fine la soddisfazione di vederla con Gianni, vederla riuscire a parlare, riuscire a coinvolgere, a farsi ascoltare, a distinguersi per l'eleganza e per linguaggio. Beh, a me ha fatto molto piacere. Spero solo che Gianni poi, se dovesse vincere, un domani tenga presente che ha comunque al suo fianco una persona su cui si può fidare e su cui può contare. Benissimo, questo tra l'altro è detto anche con l'orgoglio di un papà che è davvero soddisfatto della sua ragazza. Nico, a questo punto siamo anche in conclusione, perché le interviste sono belle quando ci si allarga con gli argomenti, però l'argomento principale questa volta erano e sono proprio la conclusione della competizione elettorale. Si vota domenica 21, dalle 7 alle 23. A questo punto... La mia speranza? La tua speranza. La mia speranza è stupida, banale, semplice, ma io spero che chiunque vinca, è chiaro che ho già detto che spero che vinca, però che chiunque vinca prenda le forze giovani che si sono distinte in questa competizione e siano di destra o di sinistra, perché noi non dobbiamo fare soltanto lo spoil system, noi dobbiamo prendere i ragazzi di Manfredonia, dobbiamo farli crescere. I ragazzi che si sono distinti, che hanno un valore aggiunto, coltivarli, farli crescere, investirli e insegnarli a gestire la cosa pubblica. Beh, io devo dire la verità, ma aspetto questo soprattutto da Gianni Rotice, ho qualche dubbio che possa succedere dall'altra parte politica, perché nel corso di questi 25 anni non abbiamo visto purtroppo la valorizzazione di quelle forze che invece provenivano anche da altre parti politiche. E poi spero, l'ultima cosa fondamentale, è che ci vanno le persone al posto giusto. faccio, io non so se altre giunte ci siano state, ma non di Manfredonia, non voglio fare commenti sulle giunte di paesi limitrofi, però voglio dire, avere la capacità di mettere la persona giusta al posto giusto è la necessità assoluta di questo paese. Adesso avremo questo piano europeo in cui avremo dei fondi, questi fondi non ci verranno dati se non abbiamo un programma, un progetto, un avanzamento dei lavori e un completamento dei lavori. Per fare questo dobbiamo avere persone competenti ai posti giusti, dobbiamo avere degli amministratori ai posti giusti, dobbiamo avere anche degli imprenditori ai posti giusti. L'altro giorno ho sentito Martino parlare e diceva un politico, un imprenditore quando fa il politico deve dimenticare di fare l'imprenditore, deve lavorare non per obiettivi singoli, ma deve lavorare per obiettivi diversi sulla collettività. Beh, io credo che finalmente abbiamo la capacità di variare e di non avere obiettivi singoli legati a soltanto un filone, ma avere delle capacità molto più ampie di ramificazione sul territorio e di sviluppo del territorio. Bene, grazie a Nico Muscatiello. Ci aspettiamo davvero che la città possa cambiare e possa prendere la direzione del futuro, come dice uno slogan di uno dei due competitor, che è Gianni Rotice. Grazie ancora. Grazie Vincenzo. Ci vedremo per queste nuove trasmissioni. Benissimo. Bene, salutiamo. Quindi Nico, noi diamo appuntamento alle prossime puntate di Piazza del Popolo e quindi auguriamo a tutti davvero buona vita e soprattutto buone elezioni, buona competizione elettorale affinché sia una bella domenica. E soprattutto dopo la domenica che sia comunque una bella giornata per noi. Benissimo, grazie ancora. Noi per quanto riguarda Piazza del Popolo avremo occasione di rivedere.